Ciao, io sono Paolo Corradeghini e in questo video ti voglio far vedere come puoi calcolare il volume di un elemento, in questo caso specifico, di un cumulo, partendo da una nuvola di punti utilizzando il software Open Source Cloud Compare senza avere a disposizione un'altra nuvola di punti, magari di un rilevo precedente, che ti funzioni da riferimento per il calcolo di volumi. Avevo già fatto un video precedentemente sempre su l'utilizzo di Cloud Compare che ti faceva vedere come calcolare le differenze di volume nel confronto tra due nuvole di punti di due rilievi in step diversi nel tempo. In questo video invece ti voglio far vedere come puoi, con un passaggio in più, lavorare su un'unica nuvola di punti per tirare fuori delle informazioni di tipo volumetrico. Questa è la nuvola di punti che voglio utilizzare per fare questo calcolo, per farti vedere come si possono calcolare i volumi utilizzando Cloud Compare senza avere a disposizione dei rilievi in step temporali diversi. Ora, questo qui è un pezzetto di una nuvola di punti da rilievo aerofotogrammetrico e la mia idea è quella di farti vedere come si calcola il volume di questo cumulo. Allora, aumento un attimo la dimensione dei punti, quindi default point sites, la trovi se porti il mouse qui in alto a sinistra, ti appare questa piccola finestra, puoi cliccare più volte per aumentare la dimensione dei punti, in questo caso è tutto molto più visibile. Allora, lo scopo è quello di tirare fuori il volume di questo cumulo. Questa è un'area di scavo dove ci sono costantemente scavi e riporti e vorrei sapere qual è il volume di questo cumulo che appoggia su questo piano, quindi su questo terreno. Io non ho a disposizione un altro rilievo, in un caso di questo genere sarebbe ottimo, o meglio, in realtà succede quando hai delle aree più grandi, a me è successo in questo caso specifico, avere un rilievo fatto in uno step precedente, utilizzare le due nuvole di punti che se sono già referenziate nel solito di sistema di riferimento hanno la possibilità di andare a posizionarsi proprio in maniera uniforme, coesa, in maniera corretta una rispetto all'altra e poi fare un confronto tra nuvole per fare un'analisi generale dei volumi. Non ho questa informazione, però posso cercare di tirare fuori l'informazione del volume di questo cumulo lavorando su con uno step diverso, cioè facendo un'operazione in più, ma utilizzando sempre poi dopo successivamente il solito strumento che ti ho fatto vedere nell'altro video. Comunque ti metto il link in descrizione al video dove facevo vedere il calcolo volumetrico tra confronto di nuvole di punti. Il principio è quello che è sempre al solito, quindi creare una nuova nuvola di punti che possa utilizzare come riferimento per confrontare le due nuvole e quindi tirare fuori le differenze volumetriche. Allora, come si fa? Si fa che io devo cercare di individuare una nuvola di punti che possa essere rappresentativa del piano su cui si poggia questo cumulo, perché il volume di questo cumulo viene calcolato a partire dal piano di appoggio e il piano di appoggio è abbastanza ragionevolmente questo piano qui, è un piano abbastanza uniforme. Questo metodo funziona in questi casi dove è abbastanza facile trovare un'uniformità di piano su cui si appoggia il cumulo di cui vuoi lavorare, di cui vuoi conoscere le informazioni volumetriche. Allora, la prima cosa da fare è cercare di generare una nuvola di punti che sia rappresentativa di tutta quest'area senza la presenza del cumulo e che vada a rappresentare al di sotto del cumulo un piano che poi utilizzeremo per fare il confronto e quindi fare il calcolo volumetrico utilizzando lo strumento di calcolo volumi 2,5D, quindi lavorando con modelli digitali di elevazione. Allora, si fa così, devo togliere innanzitutto questo cumulo, quindi questo cumulo come lo tolgo? Lo tolgo col comando di segmentazione, quindi seleziono la nuvola di punti nell'albero del layer e attivo il comando segment, quindi la forbicina, segment, si attiva il comando di segmentazione con la finestra che ti dà le opzioni di segmentazione, quindi ho già attivo la possibilità di selezionare una polilinea, quindi io traccio per punti una polilinea che mi delimiti il cumulo che ho qui a terra. Non è molto preciso, potrei fare di meglio, se vuoi fare dei calcoli molto più precisi è meglio fare questa attività con un po' di attenzione, però diciamo che ci siamo. L'ultimo punto, tasto destro, la polilinea, il poligono, scusa, si chiude, voglio eliminare questo cumulo, in realtà non lo sto eliminando, sto segmentando, vedremo che Cloud Compare poi mi lascia le informazioni sia di una nuvola che dell'altra. Comunque in questa fase do un segment out e quello che ho ottenuto è che la nuvola di punti è stata, tra virgolette, bucata e sono state tolte le informazioni relative alla parte dove c'era il cumulo. Se io do, ok, non devo togliere nient'altro, se avessi altri cumuli farei la solita cosa anche per gli altri cumuli, sempre all'interno del solito comando di segmentazione attivo. Do la spunta, conferma la segmentazione, quindi cosa è successo? È successo che lui mi ha fatto rivedere nella visita principale la situazione esattamente così come era al momento dell'importazione della nuvola di punti. La differenza è che qui dentro, nell'albero dei layer, la nuvola è stata appunto segmentata, quindi abbiamo la nuvola che lui ha chiamata cumulo, dato un nome non troppo originale, underscore remaining e poi c'è la nuvola cumulo underscore segmented che è quella che ho fatto sparire. Io ora devo lavorare su questa nuvola di punti qua, sulla nuvola di punti cloud segmented, quindi sulla nuvola di punti che non ha la presenza del cumulo, perché quello che devo fare adesso è cercare di riempire questa nuvola di punti con dei nuovi punti che siano il risultato dell'interpolazione delle informazioni prese dai punti che ci sono qui intorno. Si deve passare attraverso il comando di rasterizzazione, quindi il comando che è poi lo stesso comando che ti permette di generare le curve di livello che a loro volta sono generate a partire da un modello digitale di elevazione che è a tutti gli effetti un raster. C'è questo comando qui, questa sorta di scacchiera, converte cloud to 2D raster, quindi converti una nuvola in un raster 2D e poi tra parentesi vedi che c'è scritto and optionally generate the counterplot, e quindi eventualmente se vuoi puoi anche generare le curve di livello. A me non serve generare le curve di livello, mi serve generare dei punti, ma c'è l'opzione per farlo. Avvio il comando, avvio il comando e lui mi chiede, ok, per prima cosa devo generare una griglia. Ora questo comando qui, se hai seguito, se hai visto anche l'altro video che ho caricato sul canale YouTube che riguarda proprio la generazione di curve di livello, è un comando che non ti è nuovo, perché le curve di livello per generarle si passa attraverso la rasterizzazione. Quindi questo processo è esattamente il solito, però ti faccio vedere una cosa che va fatta in questo step per poter rendere possibile il calcolo volumetrico. Comunque la prima cosa da fare è quella di generare una griglia, quindi di generare un raster, quindi un elemento 2,5D, il raster è un elemento che prende la nuvola di punti, la spalma su un piano 2D, quindi genera un'immagine, fondamentalmente un'immagine 2D, i cui pixel sono tutti uguali, sono quadrati, hanno informazione di posizione per quanto riguarda il loro centro e a ciascun pixel è associata un'informazione di elevazione. È per questo motivo che si chiama elemento 2,5D, perché non è proprio un 2D puro, perché per ogni elemento 2D A viene scritta separatamente un'informazione di elevazione, quindi si avvicina un po' al 3D, non è un 3D ma non è neanche un 2D, 2,5D. Devo dire qual è la griglia, quanto voglio che siano larghi i pixel che formano questo raster, posso dire ad esempio 10 cm, update grid, però prima di fare update grid devo lavorare un attimo su questi parametri, quindi il primo parametro su cui devo lavorare è la proiezione, voglio dire al software qual è la direzione di proiezione, la direzione di proiezione o meglio qual è l'asse su cui la mia nuvola di punti 3D viene schiacciata in un elemento 2D ed è l'asse Z, l'asse verticale, potrei scegliere anche altri assi, x, y, però io scelgo l'asse Z. Voglio generare per ogni pezzo, per ogni pixel del raster, una informazione di elevazione che prenda il valore medio di tutti i punti che stanno all'interno di quel quadratino, potrei scegliere anche il valore minimo il valore massimo, però scelgo il valore medio, è più rappresentativo. Scelgo di non fare un resample della nuvola di punti e qua è questo punto importante, se il software nel calcolo del raster dovesse trovare dei buchi nella nuvola di punti, la nuvola di punti è comunque un elemento bucato, un elemento discreto, i punti sono elementi discreti in uno spazio tridimensionale, ma se trova dei buchi, dei veri e propri buchi, è come il buco che abbiamo creato quando abbiamo proprio questo buco qua, quando abbiamo tolto il cumulo col comando di segmentazione, se dovesse trovare dei buchi, lui vuole sapere che cosa fare, in questo caso io gli devo dire di interpolare, quindi lui cosa fa? Prende le informazioni dei punti che sono esterni all'area bucata e riempie l'area bucata con le informazioni di posizione ma soprattutto di elevazione dei punti che gli stanno intorno. Ora l'interpolazione è un processo che non è sicuramente rigoroso, non è un processo cartograficamente e topograficamente rigoroso perché dai informazioni dove non ci sono, prendendole da cosa c'è intorno, però c'è da dire che se la situazione è tutto sommato piuttosto uniforme e se all'esterno dell'area bucata ci sono sufficienti e robusti dati, l'interpolazione presumibilmente ti dà in output dei dati che sono attendibili. È certo che se questo buco fosse in un'area estremamente mossa o se fosse molto grande, l'interpolazione potrebbe produrre, anzi molto probabilmente produrrebbe un risultato inattendibile perché lui cerca di riempire dei buchi con delle informazioni che si ha intorno ma non sono così forti da permettergli di farlo e soprattutto la dimensione molto estesa del buco non gli permette di avere dei dati robusti da cui attingere. In questo caso, gli lascio indicato Interpol, faccio un update grid, lui calcola questa griglia, l'informazione di colore, quindi associa, in questa fase, in questa colorazione qua, associa al raster l'informazione di colore dove ti dice che il colore rosso sono le zone più ad elevazione maggiore e poi mano a mano che si va verso il blu si scende a elevazione minore. A questo punto dobbiamo fare un parametro, uno step molto importante che è lo step che permette di generare la nuvola di punti. Io scelgo qua, in questa finestra che c'è qua sotto, nel pannello Export, di generare, di esportare un cloud, quindi lui mi dice Export Grid as a Point Cloud, lui con questo comando cosa fa? Esporta e la mette qui nell'albero dei layer, adesso ti faccio vedere che lo fa, fai caso a quest'area qui mentre schiaccio il tasto Cloud, ok vedi si è popolato di un nuovo elemento, Cumulo Cloud Segmentation Raster 0.1. ha generato una nuvola di punti, quindi un elemento discreto, nuvola di punti che occupa lo spazio tridimensionale georeferenziata, scalata, tutto a posto, di cui i punti sono così fatti, sono il punto centrale di ogni raster, di ogni pixel che compone il raster, per cui io ho generato questo raster che ha step 10 cm, vuol dire che ho generato una nuvola di punti che è una maglia regolare innanzitutto e i punti sono distanti uno con l'altro 10 cm, perché corrispondono al centro dei quadrati. Se io do OK, la nuvola di punti me la trovo all'interno dello spazio tridimensionale, ok? È tutto spento, per cui non vedo il resto, ma la nuvola di punti che ho generato è perfettamente in linea e si adagia perfettamente, combacia perfettamente con tutto il resto che c'era all'inizio, quindi con il cumulo e con la nuvola di punti bucata, quindi privata del cumulo. Ora io posso utilizzare questo elemento, nuvola di punti, a questo punto per fare il confronto in termini volumetrici. Prima però di fare il confronto di termini volumetrici, perché ho una nuvola di punti che adesso mi costituisce un piano di riferimento, devo fare due operazioni. La prima operazione che devo fare è quella di togliere queste parti blu. Queste parti blu sono legate al fatto che il raster è stato interpolato, cioè i buchi sono stati interpolati e siccome lui ha lavorato in un'area rettangolare, ha riempito anche le parti esterne ai confini della nuvola di punti e quindi ha interpolato queste zone con l'informazione di elevazione che in questo caso si riferisce all'elevazione della parte minima. Quindi queste cose le devo togliere perché altrimenti sono punti della nuvola che mi vizierebbero il calcolo. Come le tolgo? Sempre col comando di segmentazione, quindi seleziono la nuvola che voglio trattare, le parti che voglio togliere, attivo il comando di segmentazione e seleziono le parti che voglio eliminare. Lo faccio in un paio di passate, quindi cambiando anche le viste. Faccio un segment out perché di nuovo queste le voglio eliminare e poi con questa vista riattivo la segmentazione e ora vado anche qua abbastanza veloce, bisognerebbe essere un po' più precisi ma penso che possa andare comunque bene così. Individuo la zona perimetro, col poligono la zona che voglio togliere, faccio un segment out. C'è ancora qualcosa forse qua da togliere, sì. Questi pezzettini qui di punti che sono il risultato dell'interpolazione nell'area quadrata. Ok. A questo punto io ho di nuovo quando do il comando ok mi rifarei vedere tutto quanto. La parte esterna che è questa, questa che sto accendendo e spegnendo, la posso tranquillamente togliere perché da un punto di vista del supporto al calcolo non mi serve assolutamente a niente, quindi verifico che sia lei perché ti ricordo che in Cloud Compare l'eliminazione di un layer è irreversibile perché Cloud Compare non ha lo strumento undo, non ha il ctrl z. Verifico che sia lei, nel momento in cui ho verificato che sia lei, tasto destro, delete. Quindi non ho più le informazioni legate alla parte interpolata. Se voglio tornare a vedere la nuvola di punti con le informazioni RGB, in questo modo lui mi ha esportato la nuvola di punti e gli ha dato di default una visualizzazione con informazioni di colore che sono legate a loro volta all'elevazione. È uno scalar field, quindi è un'informazione extra che viene associata alla nuvola di punti. Se voglio rivedere la nuvola di punti colorata così come è normalmente o comunque da un punto di vista dell'informazione RGB, visto che questa è una nuvola fotogrammetrica, seleziono una nuvola, vado qui nel pannello proprietà sotto la sezione Cloud Compare Object Colors invece di scalar field, seleziono RGB. Ed ecco che quello che è successo è abbastanza evidente. Quindi lui ha ricreato una nuvola di punti, è accesa soltanto questa nuvola di punti, quindi lui ha ricreato una nuvola di punti dove ha creato un raster da cui poi ha estrapolato dei punti e vedi che questi punti hanno riempito il buco che c'era qui in mezzo. L'hanno riempito bene? Beh direi di sì, mi sembra che sia riempito abbastanza bene, quindi è abbastanza rappresentativo del piano che è attorno al cumulo e che adesso posso utilizzare per fare il calcolo dei volumi. Farei però un'altra cosa ancora, in realtà sono ancora due cose da fare. Allora, una cosa da fare è che è relativa alla nuvola di partenza, quindi spengo un attimo la nuvola che ho generato a seguito della rasterizzazione, riattivo le due nuvole di partenza, o meglio le nuvole segmentate che sono corrispondenti alla nuvola di partenza. Queste due nuvole qui io le devo riunire adesso perché devo utilizzare una sola nuvola di punti per poter fare il calcolo volumetrico, per cui seleziono le due nuvole di punti e faccio il merge. Quindi c'è questo comando, questa sorta di iconcina blu con freccia rossa, merge multiple clouds, io gli do ok, lui mi chiede se voglio generare uno scalar field, non è importante adesso, gli dico no, e le due nuvole di punti sono diventate una, quindi gli ha dato un nome che è quello remaining, ha scelto uno dei due, adesso non mi ricordo come funziona in funzione di quale clicchi per prima, comunque ho una sola nuvola di punti. E poi sotto ho l'altra nuvola di punti che è quella generata dalla rasterizzazione. Ora, l'altro passaggio che secondo me vale la pena fare è legato a un sottocampionamento della nuvola originale, quindi della nuvola non interpolata. Questo perché? Allora, la nuvola interpolata è una nuvola di punti che intanto ha un passo regolare, è questa, eccola qui, se io ingrandisco si vede molto bene, e poi ha una densità di punti che è molto meno spinta rispetto alla nuvola di punti originale, che è più densa ed è anche irregolare. Quindi, al fine di avere una buona corrispondenza, o comunque una migliore corrispondenza nell'operazione di calcolo di volumi, io mi sento di sottocampionare la nuvola di punti originale, facendo sì che i punti si dispongano uno con l'altro a una distanza media di 10 cm, che è il solito passo del raster che ho generato per calcolare una nuvola di punti di riferimento. Come si fa? Anche qui ho fatto un video specifico sul sottocampionamento delle nuvole di punti, devo utilizzare il comando subsample, subsample e point cloud, utilizzo l'opzione space e gli dico che i nuovi punti della nuvola devono stare distanti uno con l'altro, più o meno 10 cm. Viene creata una nuova nuvola di punti, i punti non vengono regolarizzati, quindi attenzione, non è una nuvola di punti che ha una distribuzione regolare, se volessi farla dovrei fare un raster di questa e chiedere al software di fare un raster con punti regolari, proprio come abbiamo fatto per la nuvola che farà da piano di riferimento, però diciamo che va bene così, come riferimento per il calcolo volumetrico va bene, ha generato una nuova nuvola di punti, questa è quella di partenza, questa è quella rasterizzata, scusa è quella sottocampionata, adesso posso procedere al calcolo volumetrico, quindi posso procedere a fare il calcolo dei volumi tra le due nuvole di punti, una che è quella originale, anche se sottocampionata, però quella che ho importato e che ho a disposizione per fare questo calcolo, e l'altra è quella che ho creato per fare un riferimento come base, come pavimento per il calcolo volumetrico. Quindi seleziono le due nuvole di punti che voglio usare, le nuvole di punti sono questa, segmented.raster e remaining.subsample, le seleziono entrambe con il control, poi vado in edit, no, tools, volume, compute 2,5D volume. Ok, ora mi apre una finestra che è abbastanza simile a quella che abbiamo appena visto quando abbiamo fatto la rasterizzazione, soltanto che lui qua mi sceglie, mi dice di fare un volume, mi chiede di fare il calcolo, farà il calcolo dei volumi. Perché si chiama 2,5D volume, calcolo 2,5D volume? Perché passa di nuovo attraverso uno strumento 2,5D. Lui genera nuovamente un DEM, un modello digitale di elevazione, quindi un elemento 2,5D. La prima cosa che devo fare è dirgli qual è il riferimento del ground, del before, cioè della parte dello step 0, è proprio questo, il raster 0.1 segmented. Celle vuote, gli dico di lasciare vuoto, non ho bisogno di fare delle interpolazioni in questo momento. Sealing, se il sinistro per soffitto, after, è l'altra nuvola di punti. Scelgo lo step della griglia che voglio generare, lo step lo scelgo a 0,1, quindi 10 cm che è lo step che corrisponde al passo della nuvola di punti di riferimento, questa, e ha più o meno sottocampionamento che ho fatto su questa nuvola. Faccio un update, ok, e lui mi dà in output il valore del calcolo volumetrico. Quindi lui cosa ha fatto? Ha generato due modelli digitali di elevazione per ciascuno delle due nuvole di punti che ha preso in input. Le ha confrontati e ha fatto una sottrazione tra modelli digitali di elevazione. Questa è un'operazione che si fa tranquillamente anche in tanti GIS. Quindi questo strumento, questa procedura potrebbe anche interrompersi alla generazione di un raster e poi esportare i raster per portelli poi gestire all'interno di un GIS. Quindi quello che vedo è che c'è una grandissima area verde che corrisponde a valori di screpanze in termini di altezze minime e poi c'è un'area che è colorata in maniera diversa, si va dal giallo al rosso fino a altezze massime relative di un metro e mezzo che corrisponde al cumulo di cui io voglio calcolare il volume. Qui mi dà delle informazioni su il volume, che sono le informazioni importanti che io voglio sapere, mi dice guarda io ho trovato un delta volume di 12,26. Lui lo chiama volume, in realtà è una differenza di volume di 12,26 metri cubi. Tutta l'area che ho misurato è di 750 metri cubi ed è questa l'area misurata, quindi non si sta riferendo a quest'area qui ma è tutta l'area su cui ha fatto il confronto tra modelli gittari di elevazione. Nello specifico io ho trovato che i volumi in elevazione sono 12,86, i volumi in sottrazione sono 0,59. Ora c'è un po' di sottrazione perché comunque noi abbiamo utilizzato un processo non rigoroso e quindi ci sta che qualche punto sia finito sotto rispetto al piano di riferimento. Però è evidente come sia preponderante ed è giusto che sia così la parte in elevazione. Quindi indicativamente, cautelativamente potrei dire che questo volume è un volume che si aggira intorno ai 12 metri cubi e mezzo. Potrebbe essere tra i 12 e i 13 metri cubi, dipende anche un po' dal rigore e dalla precisione con cui vi viene richiesto il calcolo volumetrico. In più ho un'altra informazione all'interno di questa finestra che riguarda le matching cells, cioè le celle che hanno trovato un matching una con l'altra. 55%, non è un valore molto alto. Ma questo è legato al fatto che i punti, io ho fatto un sottocampionamento della nuvola di punti a 10 cm, ho fatto una rasterizzazione della nuvola di punti di partenza con pixel di 10 cm, non è un dato molto denso. Se avessi voluto avere un matching cells più alto avrei dovuto fare una rasterizzazione con dei valori delle celle ancora più piccole. Puoi provare, se ti va puoi vedere se trovi qualche beneficio, sicuramente ci sono in termini di migliorare questo valore delle celle che si sono matchate. Matching cells sono le celle che si sono matchate nel confronto tra i due modelli digitali di elevazione. Sicuramente aumentando il valore, diminuendo il valore del pixel la cosa migliora, però io credo che sia sufficiente in questo per darti la possibilità di avere un'indicazione sul volume di questo accumulo che hai calcolato e ti ricordo che siamo riusciti a calcolare questo accumulo senza avere di base un'altra nuvola di punti relativa a un altro rilevo precedente che funzionasse da piano di riferimento. Questi dati se vuoi li puoi copiare, copy to clipboard, hai copiato questa informazione, puoi incollarla da qualche parte all'interno di un documento di testo, oppure puoi fare anche export grid as cloud e quindi ti faccio vedere che cosa è successo. Ha generato un'altra nuvola di punti, spegniamo questo, quindi lui ha generato una nuvola di punti che è stata tra virgolette normalizzata, quindi è tutta schiacciata, vedi che è stata tutta su un piano perché lui ha esportato la nuvola di punti prendendola dall'informazione del modello digitale di elevazione, quindi un dato 2,5D, ma proprio perché 2,5D ci sono delle celle che hanno un'informazione di altezza scritta al loro interno, è un'altezza relativa, lui a quei punti associa quell'altezza relativa e crea questi punti nello spazio 3D che hanno un'elevazione. Quindi questo è un dato che puoi vedere soltanto come scalar field, infatti non c'è l'informazione RGB perché questa è una modifica anche abbastanza sensibile della nuvola di punti, ma hai un'informazione nello spazio tridimensionale di Cloud Compare del calcolo volumetrico e quantomeno ti fa vedere che cosa è cambiato tra il confronto tra queste due nuvole di punti. Spero che questo video ti sia stato utile, credo che sia un buon modo o quantomeno un modo possibile da perseguire se devi calcolare il volume di alcuni elementi ma non hai delle informazioni di rilevi precedenti che puoi utilizzare per fare un riferimento per il calcolo, per il confronto volumetrico. Ci sono dei limiti in questa procedura, se hai delle situazioni molto complesse, se hai una situazione molto movimentata, se tagliare i cumuli ti crea dei buchi troppo grandi, la procedura ha dei limiti perché l'interpolazione può veramente zopicare e possono esserci degli errori in termini di riempimento di quei buchi con delle informazioni da parte del software, però se hai delle situazioni un po' come questo caso dove riesci con buona approssimazione a ricostruire un piano prendendo informazioni da quello che c'è intorno e in situazioni tutto sommato di omogeneità e di uniformità può essere una buona soluzione, può essere un buono strumento che tutto sommato anche in poco tempo ti permette di avere delle informazioni di tipo volumetrico utilizzando una sola nuvola di punti, quindi non avendo a disposizione nient'altro che il rilevo che magari hai fatto tu in quel caso specifico. Se hai dubbi, se hai domande, se hai delle richieste di approfondimento, se hai dei suggerimenti da darmi, consigli, nuovi video, qualsiasi cosa, puoi scrivermi nei commenti qui sotto oppure puoi mandarmi una nota audio o un messaggio su Telegram, mi trovi a telegram.me slash paolo Corradeghini. Il mio quartiere generale online è www.3dmetrica.it, li ci trovi tutti gli altri modi per metterti in comunicazione con me, i miei contatti diretti, email, telefono, i miei canali social network, i miei privati e di 3Dmetrica. Trovi la possibilità di iscriverti alla newsletter settimanale di 3Dmetrica, puoi avere anche il riferimento al canale Telegram di 3Dmetrica, telegram.me slash 3Dmetrica, dove se ti iscrivi ogni giorno riceverai un po' di aggiornamenti su quello che faccio in studio, sul campo e quello che riguarda un po' la mia professione, il mio lavoro, la topografia, la misura e il rilievo. Trovi i link a questi video, trovi le puntate del podcast e trovi gli articoli del blog. E poi trovi anche la possibilità, se vuoi, se lo vorrai, se pensi che ne possa valere la pena, di diventare un finanziatore di 3Dmetrica e quindi supportarmi con il tuo contributo economico, un contributo ricorrente costante mensile tramite la piattaforma Patreon e in questo modo mi farai capire che insomma quello che faccio è importante per te e vale la pena sostenermi e supportarmi in questo progetto. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qua a vedere questo video, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.